benvenuti al console d'appuntamento con l'informazione in studio Andrea Conte iniziamo dai titoli principali Santi Cosme Damiano infermiere si rifiuta di ricoverare una donna settantenne che poco dopo muore l'infermiere è stato rinviato a giudizio Formia furto al centro commerciale Itaca arrestato un sessantenne Terracina schianto mortale sulla Pontinia Fondi ennesima carambola contro un albero sulla via Appia salva per miracolo una famiglia in turno si è rimesso l'ex colonnella Tiglio Novelli comandante della polizia provinciale in pensione per l'ostruzionismo degli uffici comunali Castelforte Santi Cosme Damiano manifesto fuoco fuochino acqua aumento retroattivo tariffe acqua in bolletta richiesta chiarimento il tutto dal Metap del Movimento 5 Stelle Cisterna appassionato di parapendio finisce sui cavi dell'alta tensione Santi Cosme Damiano Litis Pacinotti a rischio chiusura il consigliere Taddeo forse rimarrà fino al 2016 ed in fine ad aprile nasce il comitato no euro iniziamo da Santi Cosma e Damiano è stato rinviato a giudizio per i reati di omissione di atti di ufficio ed esercizio abusivo della professione medica dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Latina Donenzo Ferri Francesco Acursio infermiere professionale del 118 è comparso stamattina davanti al magistrato del capoluogo Pontino per fatti che risalgono al 18 settembre del 2010 in quell'occasione una settantenne di Santi Cosme Damiano, una adua Italia di Vito a causa di problemi respiratori e dopo sollecitazione del medico di famiglia aveva chiesto l'intervento di un'ambulanza a visitare la settantenne facendo le funzioni di medico era stato l'infermiere indagato il quale però aveva ritenuto non necessario il ricovero anche dietro sollecitazione dei familiari della donna e del medico di famiglia all'accurso si era rifiutato di trasportare l'anziana in ospedale a distanza di poche ore da quei fatti e precisamente alle 5.30 del 19 settembre del 2010 la situazione della di Vito si era aggravata al punto da indurre il marito della donna a chiedere nuovamente l'intervento del 118 stavolta il personale sanitario intervenuto nel tentativo di aiutare la settantenne stava procedendo al ricovero purtroppo però quando era troppo tardi per la donna che non ce l'ha fatta e quindi è morta il marito e la figlia della di Vito assistiti dall'avvocato Alfredo Donofrio hanno scelto di denunciare l'accaduto in particolare il comportamento dell'infermiere difeso dall'avvocato Giuseppe Romano e il GUP stamattina ha disposto il rinvio a giudizio della Cursio il processo prenderà il via il 24 giugno prossimo davanti al secondo collegio penale del Tribunale di Latina a Formia un furto di generi di prima necessità e cosmetici è stato messo a segno all'interno del centro commerciale Itaca nella tarda mattinata di lunedì verso mezzogiorno autore del gesto un sessantenne con precedenti per ricettazione, truffa e violazione degli obblighi di assistenza familiare dopo aver messo a segno il furto il GDOM è stato fermato dagli uomini del nucleo operativo radiomobile dei carabinieri intervenuti sul posto che lo hanno incriminato per furto aggravato l'uomo sarà processato per direttissima presso il Tribunale di Cassino la difesa è stata affidata agli avvocati Gianluca De Meo e Giuseppe Cece Terracina, un gravissimo incidente stradale si è verificato sulla Pontini al chilometro 104 nel territorio comunale di Terracina il bilancio definitivo è straziante una persona ha perso la vita e altre quattro sono rimaste ferite una di loro in maniera preoccupante il terribile sinistro è avvenuto poco prima delle ore 17 in un momento in cui la terribile arterie che si conferma strada killer è sempre particolarmente trafficata lo scontro ha visto coinvolti tre veicoli una Smart, una Panda e un furgone che viaggiavano in direzione di Terracina per motivi in fase di ricostruzione la Panda avrebbe tamponato il mezzo più pesante che a sua volta è finito contro una Smart l'uomo alla guida della Fiat Panda, un 48enne di Monte San Biagio purtroppo sarebbe morto sul colpo con lui viaggiavano il figlio 22enne e un operaio straniero tornavano tutti da lavoro un ritorno a casa straziante per il giovane di Monte San Biagio è stato necessario il trasferimento in eleambulanza presso il Santa Maria Goretti di Latina feriti anche il conducente del furgone un 47enne di San Felice Circeo e quello della Smart un 27enne di Terracina sono stati entrambi portati dal vicino ospedale Fiorini sul luogo della tragedia una vera tasca forse di soccorsi sono intervenuti infatti i sanitari dell'automedica della Croce Amica dell'Ares e dell'ambulanza Croce Amica immancabili comunque anche i vigili del fuoco di Terracina la polizia e i carabinieri a Fondi ancora un terribile incidente lungo il tratto di Appia tra Fondi e Monte San Biagio il quinto in pochi giorni si è registrato intorno alle ore 20.15 all'altezza del chilometro del chilometro 115,400 in territorio fondano ad essere coinvolta centrando in pieno uno dei platani che costeggiano l'arteria una Renault Station Wagon su cui viaggiava una famiglia di Fondi al volante il 52enne AS rispettivamente al suo fianco e sui sedili posteriori la moglie la 49enne MP ed il figlio di 17 anni tornavano a casa dopo aver lasciato un altro figlio in un vicino ristorante ad una festa per causa ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Monte San Biagio ad un tratto il mezzo è sbandato ed ha invaso l'opposto senso di marcia schiantandosi con il lato anteriore destro contro un albero poi per finire la propria corsa oltre 10 metri più in là trasportati all'ospedale di Terracina dai sanitari dell'Ares localizzati al San Giovanni di Dio i tre sono salvi per miracolo oltre a un comprensibile stato di shock e a qualche lesione superficiale sono praticamente rimasti illesi per scongiurare eventuali lesioni interne la 49enne MP stordita è stata comunque sottoposta ad un'attacca Minturno è durato due mesi in incarico che il comune di Minturno appunto su richiesta del sindaco ha affidato al colonnello Atidio Novelli comandante della polizia provinciale in pensione per aiutare l'amministrazione di Minturno appunto ad uscire dalla difficoltà di gestione sul problema rifiuti un saluto di commiato pieno di amarezza quello che si registra nelle poche parole spese all'indomani delle sue dimissioni l'osteggiamento degli uffici ha dichiarato mi ha impedito di svolgere il mio lavoro una frase semplice ma certamente esplicativa di una decisione sofferta da parte di un esperto nel settore ambientale inglobato nello staff del sindaco che Minturno e le sue vicissitudini le aveva prese a cuore una dedizione registrata da una grande mole di lavoro avviato nonostante il poco tempo appena due mesi nel quale ha prestato la sua opera l'esperto in materia di gestione ambientale dei rifiuti nel breve lasso temporale riuscì infatti a disporre una serie di atti relativi all'igiene, all'obbligo di pesatura dei rifiuti alla raccolta dei rifiuti alla gestione del RAI e aveva già avuto anche incontri preliminari con Acqua Latina per risolvere il problema estivo della rottura dei collettori che scaricano a mare con il progetto del posizionamento di una seconda pompa di sollevamento tutti i programmi evidentemente migliorativi nella gestione del settore ambienti e rifiuti terminati anche a causa di una scarsa o assente collaborazione da parte degli uffici comunali preposti con nulla di fatto visto che il colonnello Novelli stanco di dover lavorare con estrema difficoltà in un settore dove di difficoltà ce ne sono tante ha rassegnato irrevocabilmente le proprie dimissioni e andiamo a Castelforte il Movimento 5 Stelle Metap di Sant'Icosto Bedamiano e Castelforte hanno ritenuto indispensabile in questi ultimi giorni produrre un manifesto per informare i cittadini riguardo il comunicato emesso in data 20 aprile 2013 dal Comitato Acquabene Comune di Aprilia su una ipotetica riunione dei sindaci in cui si è deciso l'aumento retroattivo delle tariffe in bolletta di conseguenza i nostri Metap hanno presentato ai sindaci del comprensorio domande ben precise corredate da firme ai cittadini residenti queste le domande rivolte all'amministrazione comunale primo questa riunione ha mai avuto luogo? secondo se ha avuto luogo il nostro Comune ha partecipato? terzo se ha partecipato si prega di comunicare la posizione assunta dal sindaco o suo delegato l'intervento e se ha votato a favore o contro l'aumento della bolletta dell'acqua quarto qualora il nostro Comune abbia votato a favore specificare i motivi di questa scelta considerato che il Metap locale giudica immotivata tale decisione alla luce dei disservizi che si sono presentati nell'estate e inverno dell'anno 2012 tenendo presente che la risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal sindaco o dal delegato o dal segretario o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestione dell'aspetto sollevato l'istanza consegnata al protocollo dei due Comuni il giorno 14 giugno 2013 ottiene il 2 agosto 2013 la risposta del Comune di Castelforte certo di farci sapere che esiste un contratto di servizio con Acqua Latina comunicandocene una sintesi ma certamente non esaustiva pur apprezzando la gentilezza considerando che sia noi che i cittadini castelfortesi avremmo preferito di gran lunga una risposta concreta ma il meglio deve ancora avvenire in quanto ad oggi da parte del Comune di Santi Cosmo e Damiano non è ancora pervenuto nulla il silenzio permane e persiste nonostante una raccomandata di sollecito datata 16 novembre 2013 ad adempiere ai doveri sanciti dallo Statuto Comunale in esso è scritto l'articolo 52,2 la risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal sindaco o dal delegato o dal segretario oppure dal dipendente responsabile a seconda della natura politica e gestionale dell'aspetto sollevato e siamo ben oltre tali limiti come potete osservare il fatto stesso che dopo 4 mesi dalla presentazione il Comune non sapesse né la data degli istanza né che essa fosse stata presentata al protocollo la dice lunga sulle considerazioni che l'amministrazione comunale dei comuni suddetti vuoi con la non curanza vuoi con l'illusione di quei quesiti hanno voluto far capire che per loro i cittadini non valgono nulla questi hanno il dovere di votare ma non quello di sapere come si comportano i propri amministratori quello di pagare tasse e balzelli ma non quello di sapere il motivo noi cittadini ma non cittadini appunto ma sudditi niente urla più del silenzio il Movimento 5 Stelle di Castelforte è Santi Cosma e Damiano e rimaniamo in zona a Santi Cosma e Damiano sono insorti i genitori dell'Istituto Industriale Pacinotti di Fondi sezione distaccata di Santi Cosma e Damiano d'altro canto la notizia della possibile chiusura dell'istituto scolastico aveva spaventato e molto studenti e familiari una chiusura paventata sulla quale stamattina carte alla mano è arrivato il consigliere provinciale Franco Taddeo e il preside Mario Fiorillo a fare chiarezza la scuola è salva ha spiegato Taddeo almeno fino all'anno 2016 insomma il consigliere provinciale alla luce del piano provinciale di ridistribuzione ha garantito che l'istituto sicuramente non chiuderà i battenti nell'immediato il problema potrebbe nascere tra due anni siccome non risultano iscrizioni per l'anno 2014-2015 ossia per l'anno prossimo la prima non ci sarà e qualora anche per l'anno seguente dovesse ripetersi lo strano fenomeno della totale assenza di iscrizioni allora effettivamente il Pacinotti potrebbe essere a rischio chiusura il consigliere provinciale ed ex sindaco di San Cosma e Damiano Taddeo nel fare chiarezza sulla situazione ha specificato come dietro questi fatti potrebbe esserci altro sembrerebbe che gli studenti di Castelforte siano stati esortati a non iscriversi all'istituto tecnico di San Cosma e Damiano e se così fosse potrebbe tornare in auge una questione che risale allo scorso ottobre quando la dirigente scolastica di Santi Cosma e Damiano reggente presso Castelforte aveva chiesto l'annessione della sezione del Pacinotti al secondo comune istanza che se ovviamente aveva trovato i favori dell'ente locale Castelfortese da una parte aveva invece riscosso una reazione di rifiuto altrettanto scontata dall'amministrazione comunale San Cosimese e andiamo a Cisterna una brutta avventura per un appassionato di parapendio di nazionalità norvegese che alle 14 di lunedì stava per effettuare un atterraggio quando forse a causa di una distrazione o una manovra errata è rimasto impigliato nei fili dell'alta tensione a prestare soccorso all'uomo che pare abbia riportato stioni su varie parti del corpo sono stati sanitari del 118 dopo che i soccorridori sono riusciti a liberare lo straniero dai cavi lo hanno trasportato al Goretti di Latina per sottoporlo alle cure del caso l'ultima notizia per questa edizione da aprilia si è costituito il comitato di liberi cittadini denominato No Euro a carattere volontario di iniziativa politica e culturale il comitato riconoscendosi la funzione di veicolo atto a rompere la cappa di disinformazione e banalizzazione dei concetti alla base delle teorie miranti all'uscita dell'Italia dall'Euro e al ritorno ad una moneta nazionale di proprietà del popolo ha deciso di formarsi e lavorare sul territorio al fine di completare un vuoto non solo culturale ma anche di democrazia uno dei nostri obiettivi spiega il presidente Emanuele Campilongo è la crescita della consapevolezza da parte della popolazione che l'unico modo di poter avere un futuro è il ritorno alla sovranità monetaria e che essa rappresenta il primo dei problemi da affrontare saranno attuate nelle prossime settimane iniziative pubbliche di presentazione del comitato al fine di garantire sin da subito la necessaria informazione ai cittadini chi volesse aderire può già farlo scrivendo una mail a Neuro aprilia ci chiedo scusa noeuro aprilia chioccialibero.it oppure attraverso la pagina Facebook ed è tutto per questa edizione del notiziario di oggi come sempre vi ringrazio l'appuntamento è a più tardi con la prossima edizione del Golfo News arrivederci l'appuntamento 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 dell'appuntamento Grazie a tutti.